In apertura l'appello che ha lanciato Papa Francesco questa mattina nel discorso pronunciato durante l'udienza concessa ai partecipanti alla 41esima sessione della FAO in corso a Roma fino a sabato 29 giugno. Ascoltare il grido disperato dei fratelli e fare in modo che possano vivere e che siano rispettati i loro diritti di base, ha detto. Una riflessione globale, quella di Papa Francesco, che invita ancora una volta a riflettere sulle condizioni disumane in cui vive una parte considerevole del mondo. Ascoltare il grido disperato dei nostri fratelli e fare in modo che possano vivere e che siano rispettati i loro diritti di base è l'appello lanciato da Papa Francesco nel discorso pronunciato oggi durante l'udienza concessa ai partecipanti alla 41esima sessione della Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, ovvero la FAO. In corso a Roma fino al 29 giugno. La riduzione delle derrate alimentari dell'acqua è uno degli obiettivi più urgenti da porsi, secondo Francesco, tramite un'inversione a corto e lungo raggio affinché le nuove generazioni possano passare il testimone alle generazioni future, sapendo che questo dramma sociale non può essere tollerato più a lungo. Nel suo discorso il Papa ha auspicato che gli obiettivi dell'Agenda 2030 contribuiscano a sradicare con maggiore rapidità e forza i complessi, gravi e inaccettabili flagelli della fame e della insicurezza alimentare. L'obiettivo fame zero nel mondo, ha sottolineato Papa Bergoglio, è una grande sfida, anche se negli ultimi decenni ha visto un grande processo. Per combattere la mancanza di alimenti e l'accesso all'acqua potabile è necessario agire sulle cause che li provocano, ha detto il Papa, come la mancanza di compassione, il disinteresse di molti e una scarsa volontà sociale e politica nel rispondere agli obblighi internazionali. La mancanza di cibo e di acqua non è un problema interno ed esclusivo dei paesi più poveri e fragili, ma riguarda ciascuno di noi l'ennesimo appello del Santo Padre, perché tutti con il nostro impegno partecipiamo in un modo o nell'altro a favorire o porre fine alla sofferenza di tanti fratelli. L'aumento del numero dei rifugiati nel mondo durante gli ultimi anni ha dimostrato infatti che il problema di un paese è il problema di tutta la famiglia umana. Il Papa ha definito impressionanti infatti i numeri degli ultimi rapporti delle Nazioni Unite, ha messo in evidenza il legame tra la fragilità ambientale, l'insicurezza alimentare e i movimenti migratori. Promuovere uno sviluppo agricolo nelle regioni più vulnerabili rinforzando la resilienza e la sostenibilità del territorio, la proposta di Francesco che ha chiesto alla FAO di garantire a tutti, particolarmente ai più poveri, l'accesso ai beni di base. Lo sforzo delle organizzazioni internazionali per Bergoglio deve essere accompagnato dall'impegno dei governi, delle imprese, del mondo accademico, delle istituzioni, della società civile e degli individui tramite programmi e politiche che aiutino la popolazione locale ad assumersi le proprie responsabilità. La Santa Sede da parte sua riafferma il suo impegno a collaborare con la FAO appoggiando lo sforzo internazionale volto a sradicare la fame nel mondo e garantire un futuro migliore al nostro pianeta e alla umanità intera. Grazie